Musica Colpi d'arma da fuoco all'impazzata a Ponticelli di Napoli, i residenti hanno segnalato persone che si allontanavano a bordo di una moto. Mazzette per le pratiche di condono, arresti al comune di Maddaloni, fondamentale la denuncia di un pensionato. Convegno sull'innovazione e sulle start-up, interviene a Benevento il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Servizio agli studenti e ai turisti, firmata una convenzione tra il Conservatorio Sala e Confindustria Benevento. Aperta oggi la procedura di messa in vendita di 8 mila ettari della Banca Nazionale e delle terre agricole, pronti ad essere coltivati. Il ministro Martina, aiuti per i giovani. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Apriamo con la pagina della cronaca a Napoli, ancora una volta nel mirino, un'altra stesa nella notte. Colpi di pistola esplosi da gang di motorini. Spari all'impazzata di giovani a bordo di moto, ancora una volta, ancora a Ponticelli, quartiere periferico della città, capologo Partenopea. Sta indagando la polizia su questo altro episodio di stesa, verificatosi a Napoli, dove già negli ultimi giorni si erano verificati fatti analoghi. La segnalazione è arrivata da residenti che hanno sentito l'esplosione di colpi e moto che si allontanavano. Il fatto su via Argine, verso via Regina Margherita. A terra sono stati trovati due colpi esplosi, calibro 9. Un avvertimento, un'intimidazione, forse una dimostrazione di forza? Non è ancora chiaro quale fosse il bersaglio della gang di motorini. In ogni caso soltanto il prosieguo delle indagini potrà eliminare i dubbi sulla situazione attuale negli ambienti di Camorra, dei quartieri spagnoli. Una dell'ultima estesa è lo scorso 30 novembre, dove i gnoti hanno sparato colpi di pistola in aria, uno dei quali è terminato la sua corsa nella stanza da letto delle figlie di un pregiudicato. L'episodio avvenne in un'abitazione di via Camillo de Meis. Gli agenti riuscirono a fermare alcune persone sulle quali sono ancora in corso accertamenti. Operazione anticrimine con 50 agenti in azione arrestato, uno spacciatore e la vasta attività di controllo della polizia nel napoletano. Vediamo. Uno spacciatore arrestato, una persona denunciata per l'installazione abusiva di un cancello con annesso sistema di videosorveglianza, 60 persone controllate e il bilancio di un'ampia operazione di controllo effettuata dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata. In azione 50 poliziotti, agenti del commissariato locale, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile della questura di Napoli hanno effettuato un vasto blitz nel rione Penniniello passando al setaccio l'intero quartiere. Nel corso dei controlli è stato arrestato un uomo di 67 anni trovato in possesso di un quantitativo di cocaina che opportunamente confezionata avrebbe raggiunto le 200 dosi. Sequestrati, tre bilancini di precisione, 700 euro in contanti, denunciato in stato di libertà un uomo che aveva installato abusivamente un cancello in ferro a protezione della propria abitazione, vigilata, sofisticato impianto di videosorveglianza, effettuate 6 perquisizioni, 60 persone controllate di cui 45 con precedenti. Un bollettino in bianco ed una bustarella da riempire con qualche migliaio di euro, così si abbassavano i costi per le pratiche di condono per i cittadini di Maddaloni, comune in provincia di Caserta già commissariato per tangenti. L'ultima frontiera giudiziaria riguarda l'ufficio tecnico che da questa mattina è a Cefalo. Il funzionario dell'Utc, Michele della Peruta, è stato arrestato insieme al suo presunto complice, Michele Pietro Paolo. Il professionista che imbastiva le pratiche è stato raggiunto da un divieto di dimora per ottenere l'azzeramento degli interessi maturati. Dal 1986 della Peruta chiedeva dai 500 ai 5 mila euro. I casi accertati sono tre, ma svariate decine sono al vaglio degli inquirenti. Altre 5 persone risultano indagate. Il stato di libertà fondamentale per l'avvio delle indagini è stata la denuncia di un pensionato. La diocesi di Aversa ha sospeso temporaneamente dalla funzione di parroco, il parroco di un comune casertano, Succivo, dopo la denuncia presentata da quest'ultimo ai carabinieri per estorsione. Denuncia che ha portato all'arresto di due giovani di 20 e 22 anni, entrambi residenti a Succivo. Dalle indagini è emerso che gli indagati avrebbero chiesto al parroco la somma di 20 mila euro, minacciandolo di divulgare in caso di diniego un video in cui comparirebbe il sacerdote mentre compie rapporti sessuali con i due ragazzi. Perde il controllo dell'auto e si ribalta. Le lancette segnavano le 7.44 quando è scattato l'allarme. Sulla strada statale 90 bis al chilometro 3 più 350 nel territorio del comune di Ariano Irpino si è verificato un incidente. Un'auto si è ribaltata senza il coinvolgimento di altri veicoli. Una donna ha perso il controllo dell'auto, una Citroen che dopo aver perso aderenza con l'asfalto si è capovolta. La donna alla guida, una 52enne rimasta ferita e immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stata affidata alle cure dei sanitari che hanno provveduto al suo trasferimento presso l'ospedale di Ariano per le cure del caso in supporto alla squadra dei vigili di Grotta Minarda, anche quella del distaccamento di Ariano Irpino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. La circolazione poi è ripresa regolarmente. A Castelbaronia, in provincia di Avellino, un imprenditore è stato beccato dai carabinieri a bruciare rifiuti. Spende le fiamme, i militari hanno avviato la conseguente attività d'indagine denunciando in stato di libertà alla procura della Repubblica di Benevento il 45enne sorpreso mentre era intento a bruciare su un terreno incolto dei rifiuti materiale plastico e polistirolo provenienti dalla pulitura di un capannone industriale. Cambiamo argomento. Convegno sull'innovazione e sulle start-up. Interviene a Benevento il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Il delegato del governo si è espresso sull'importanza dell'iniziativa e sulle nuove prospettive occupazionali per i giovani. Sentiamo. Siamo qui per un'iniziativa molto interessante, importante. Parliamo di start-up, parliamo di innovazione, parliamo di giovani, parliamo di voglia di fare delle cose e quindi di misurarsi con il proprio futuro. Quindi io credo che sia importante dialogare con quelle organizzazioni, quelle associazioni che si impegnano su questo versante, aiutano le istituzioni perché le istituzioni debbano produrre il contesto, la condizione migliore perché queste cose possono nascere, possono crescere, possono durare nel tempo e quindi è attraverso questo dialogo che poi si ottengono i migliori risultati. Quindi io penso che il confronto che svilupperemo in questa giornata ci aiuterà perché noi cerchiamo appunto di fare la parte che ci compete a livello istituzionale ma noi sappiamo che i risultati arrivano se le comunità locali, se i contesti locali abbracciano questa idea e la coltivano nel tempo. Qui siamo di fronte ad una iniziativa molto interessante da questo punto di vista e quindi io mi ero impegnato perché credo che vedere direttamente, parlare direttamente con le persone che sperimentano queste cose sia il modo migliore per coglierne l'essenza e quindi per fare poi la parte che istituzionalmente ci compete fare. Tutto è già presente oggi nella legge di bilancio approvata al Senato e sarà riproposta e confermata alla Camera, la nostra scelta è quella di incentivare le assunzioni dei giovani per il 2018 vale fino ai 35 anni, poi dall'anno successivo si scende a Trent con la volontà di rendere più conveniente per un'impresa assumere giovani perché sappiamo che i giovani hanno anche da costruire un'esperienza nel rapporto con il lavoro, quindi cerchiamo di fare in modo che l'impegno dell'impresa ad assumere un giovane che naturalmente ha anche bisogno di fare esperienza sia favorito dalle istituzioni pubbliche attraverso la decontribuzione. Accordo triennale tra il Conservatorio Nicola Sala e la sezione turismo di Confindustria Benevento, circa 1300 studenti iscritti utilizzeranno i servizi della filiera turistica di Confindustria. Vediamo. È stata firmata e presentata alla stampa presso la sede di Confindustria la convenzione per attività di travel partner tra il Conservatorio Nicola Sala e la sezione turismo e tempo libero di Confindustria Benevento. Si fa rete in una maniera orizzontale e raccogliamo i primi successi e abbiamo lanciato l'iniziativa del travel partner che oggi è un'iniziativa che viene accolta e questo con grande onore dal Conservatorio e dove in questo momento il Conservatorio inizia ad avere un interlocutore unico per quanto riguarda tutta l'attività specifica del turismo, quindi può contare su una struttura, può contare su una filiera e nello stesso tempo siamo in grado di poter rispondere con operatori qualificati in una maniera precisa e puntuale per quanto riguarda l'esigenza del turista che arriva sul nostro territorio. Puntare dunque sul turista e non sull'escursionista, l'obiettivo è trattenere gli ospiti sul territorio e cercare di evitare una formula del turismo mordi e fuggi. L'offerta c'è tutta, l'offerta dal punto di vista culturale e patrimoniale c'è tutta ed è un'offerta veramente importante. Chiaramente ci sono delle criticità, quindi chiediamo un'accelerazione, la prima cosa è l'accessibilità al territorio e quindi quello che chiediamo noi oggi veramente di fare il massimo in una maniera anche qui di rete tra pubblico e privato per dare quanto prima alla città quella giusta entrata e velocità. Nell'occasione sono stati presentati i servizi che la sezione turismo di Confindustria Benevento, sezione che conta circa 30 iscritti, offrirà al conservatorio, ai docenti e agli studenti di musica e canto. Noi abbiamo studenti che vengono da Cuba, abbiamo rumeni, abbiamo ucraini, ungheresi e venezuelani. Questo è un dato importantissimo, importantissimo che poi ci ha portato effettivamente a chiedere alla Confindustria un accordo e ad avere una istituzione seria che ci possa offrire un prodotto serio e di qualità da dare sia ai nostri allievi, ma cosa più importante, non ci dobbiamo dimenticare che il conservatorio non ha solo allievi ma fa anche produzione artistica e di ricerca. Facendo produzione artistica e di ricerca abbiamo ospiti a livello internazionale e nazionale che iniziano a venire a Benevento. Quindi la nostra necessità era di avere una struttura seria che potesse garantirci un prodotto di qualità. Non solo italiani, ormai il conservatorio ospita tanti stranieri grazie alle attività già svolte per l'istruzione musicale. In città arrivano ragazzi da Roma, Milano, dalla Sicilia ma anche da Cuba, Romania, Ungheria, Venezuela e Cina. Il conservatorio conta circa 120 docenti. Di questi 120 docenti, diciamo 80 di loro pernottano per almeno una volta a settimana e fanno due pasti a settimana. E questo è un altro dato, quindi trovare una filiera, trovare un'istituzione che ci possa offrire un prodotto serio è importante anche all'interno del conservatorio per i nostri docenti. Il turismo è un attrattore per il nostro territorio, bisogna fare rete e potenziare le politiche di promozione e attrazione. Parola della presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini in occasione della convenzione siglata proprio con il conservatorio. Sentiamolo. In termini di concetti, Confindustria può essere sempre... cioè di chi sente parlare Confindustria immagina sempre che Confindustria parli per il settore manufatturiero e quindi per l'attività in senso stretto industriale. Però nel nostro settore noi abbiamo, nella nostra casa, abbiamo una sezione, una sezione di turismo validamente rappresentata dal presidente Luca Mazzone, dal vice presidente Fulvio De Tome, che devo dire sono due o tre anni che si stanno veramente impegnando e cercando di fare in modo che quest'area del turismo qui in provincia di Benevento venga un po' rivitalizzata, ovviamente dato un po' di attività proattiva. È difficile fare il turismo qui in provincia di Benevento, ovviamente da soli non si riesce e quindi come industria insieme al conservatorio, a quale ovviamente ringraziamo nella persona del presidente Caterina Meglio e del direttore Ilario, abbiamo visto che reciprocamente potremmo trarre un vantaggio enorme da questa alleanza strategica che verrà formalizzata in un accordo triannale. Questo serve per dare un po' fiducia agli operatori del territorio e fare in modo che questo turismo a Benevento faccia un salto di qualità. Da un turismo a morte e fuggio, come diceva poco anzi Luca Mazzone, dobbiamo cercare di passare a un turismo stanziale. C'è persone che vengono qui e possono stare due o tre giorni a visitare la nostra città, la nostra provincia. Per fare questo però c'è bisogno anche che gli altri attori istituzionali del territorio, quindi mi riferisco alla provincia e all'amministrazione comunale, si diano ad affari. Io faccio l'esame qui per l'esame a Benevento, no? Il direttore poco anzi ha precisato che ci sono tanti studenti che vengono dall'estero. Questi studenti che vengono dall'estero ovviamente portano i loro familiari, portano i loro amici in una città come quella di Benevento, storicamente bellissimi posti da visitare, ma poi veniamo un po' ai momenti liberi che un turista può avere e quindi cosa può attrarre il visitatore a soggiornare nella città di Benevento. All'ilà della visita istituzionale, poi alla fine ci si, almeno personalmente ritengo che parecchie opzioni potrebbero essere un po' messe in discussione, per esempio le riaperture di determinati teatri comunali a Benevento, teatri potrebbero veicolare ancora di più quelle che sono le manifestazioni di cultura, nell'ambito della musica. Poco fa, nella settimana della cultura e dell'impresa organizzata dopo l'industria della musea imprese, c'è stata una manifestazione qui a Benevento, alla Striga, hanno visitato il museo Striga. Ecco, anche in caso mai inserire la visita a un poli industriale come quella della Striga potrebbe essere un riempimento di quello che può essere il percorso di un visitatore che sta a Benevento, quindi la visita a musei industriali, serate che da trascorrere in teatri opportunamente preparati, abbelliti e dati in comutata ad associazioni che possono fare eventi sia di cultura e di musica, ma soprattutto di teatro. Insomma, l'abbiamo visto pochi giorni fa, sono solo 24 ore, è uscita la classifica che Benevento in quasi tutte le posizioni sta giù. Noi dobbiamo fare in modo che man mano, col passato il tempo, queste posizioni iniziamo a risalire. Prendiamo esempio della giornata di domenica, che è stata bellissima dal punto di vista calcistico, e quindi questa fiducia che è necessaria nel nostro comparto industriale, e lo dico sempre, la fiducia in questo momento è la materia prima e migliore che possiamo utilizzare. Quindi indietro alla fiducia, ovviamente alla qualità e alle professionalità, dobbiamo cercare di andare avanti. La campagna ultima ma bella. Dopo il verdetto del giornale economico Il Sole 24 Ore, bisogna rimboccarsi le maniche e puntare sui punti di forza di una regione ricca di potenzialità. Sentiamo. Il giornale economico Il Sole 24 Ore, come ogni anno, pubblica la classifica delle città più vivibili d'Italia, secondo la comparazione di alcuni parametri, come la sicurezza, il lavoro, i servizi pubblici, la cultura del tempo libero e tanti altri ancora. Come è naturale immaginare, la graduatoria sortisce lo stesso effetto campanilistico che genera l'appartenenza ad una squadra di calcio, le potenzialità inespresse, le occasioni mancate, le scelte sbagliate, l'allenatore e in questo caso il sindaco da sostituire. Ma emozioni e tifo a parte, senza avventurarsi in un'analisi complessa sul posizionamento effettivo di ogni singola città e sulla corretta valutazione ed applicazione di tutti i parametri considerati, c'è un elemento che balza l'attenzione dal cuore sia dei tifosi di calcio che ai semplici cittadini. La Campania, con le sue cinque province, è agli ultimi posti. Per gli amanti delle classifiche, aprendo ancora più spazio al tifo, su 110 province Benevento precede le altre quattro campane al 95esimo posto, segue Avellino alla 102esima posizione, Salerno alla 105esima posizione, Napoli alla 107esima e Caserta alla 110esima, conquistando anche il trofeo dell'ultima in assoluto in Italia. Abbiamo detto che non avremmo analizzato la correttezza e la valenza di questa graduatoria delle città più vivibili d'Italia, alla sua 28esima edizione, ma forse qualche considerazione si potrebbe anche spendere, perché in fondo la mortificazione urlerebbe vendetta, ma quale ed in che modo? Che il parametro della sicurezza in Campania possa ricevere un voto basso ci sta e come. Che manchi il lavoro non ne parliamo proprio. Che l'ambiente sia inguagliato è un complimento, basterebbe da sola la terra dei fuochi, i servizi pubblici combattono tra deficienze economiche ed inefficienze organizzative, i consumi sono direttamente relazionati alla mancanza del lavoro, ma quando arriviamo alla cultura e dal tempo libero è qui che il sangue ribolle, la coscienza rabbrividisce, gli antenati resuscitano, la storia si ribella. Che fine ha fatto quella meravigliosa Campania Felix? E cosa starà pensando Plinio il Vecchio leggendo la nuova classifica del Sole 24 Ore? Ed a Capua, Puteoli, Sorrentum, Neapolis, Salernum e via dicendo, chi glielo riferirà? Se siamo ultimi in tutto o quasi, sicuramente la Campania resta prima in assoluto e non solo in Italia, ma nel mondo, per la cultura, il patrimonio artistico è monumentale e non ci può essere certo comparazione tra la reggia di Caserta e con tutto il rispetto per la prima provincia in classifica, il Palazzo dei Rettori di Belluno. E se parliamo del tempo libero, avete mai sentito dire che d'estate un bellunese si bagni nel lago di Misurina piuttosto che nelle acque di Ischia o di Positano? Ecco, il rischio è proprio questo, diventare un banale tifoso meridionale che non accetta un'impietosa radiografia di un'Italia da sempre e per sempre spaccata in due. Ma se c'è tanto da combattere su tutto il resto ed è impresa enorme ed imprevedibile nei tempi, perché non lavorare su ciò che nessuno potrà sottrarci? La bellezza, la cultura, le tradizioni, la straordinarietà di un territorio che proprio il Nord ci invidia in barba le classifiche che invece lo premiano su tutti gli altri fronti? Perché non iniziamo tutti a diventare tifosi ostinati di questa sfortunata regione, uniti in uno sforzo che non è solo quello di conquistare posti in graduatorie più o molto meno attendibili, ma quello di poterci talvolta misurare anche con la prima provincia in classifica, la splendida Belluno, con ospitalità e provocazione, chiedendo magari ad un suo residente. Mi scusi, ma le piacerebbe gustare una sfogliatella napoletana dalla collina di Posillipo? Non si sa mai, magari tra i parametri dell'anno prossimo potrebbero inserire anche la voce pasticceria e ristorazione e qui lo scudetto non ce lo toglie nessuno. Presso la prefettura di Benevento il prefetto Paola Galeone, il sindaco di Apollosa e il legale rappresentante di un centro di accoglienza hanno stipulato una convenzione per la realizzazione di un progetto di volontariato denominato Vivi Apollosa, destinato ai migranti ospiti della struttura gestita dalla predetta società che su base volontaria decidano di aderire ad attività di utilità sociale promosse dal comune. Il protocollo si aggiunge a quelli già sottoscritti con altri comuni. Aperta oggi la procedura di messa in vendita di 8 mila ettari della Banca Nazionale delle Terre Agricole pronti a essere coltivati. Il ministro Martina ha commentato aiuti per i giovani. Sentiamo. Favorire il ritorno all'agricoltura soprattutto puntando sui giovani. Con questo obiettivo da oggi sono in vendita sul sito Ismea 8 mila ettari della Banca Nazionale delle Terre Agricole pronti per la coltivazione. Si tratta del primo lotto che fa parte di un'operazione complessiva da oltre 23 mila ettari gestita tramite Ismea dal Ministero delle Politiche Agricole. L'avvio è stato dato oggi dal ministro Maurizio Martina in occasione della presentazione fatta a Roma insieme al presidente Enrico Corali e al direttore generale Ismea Raffaele Borriello. Diamo nuovo valore ai terreni pubblici, ha dichiarato il delegato del governo, con un investimento su sostenibilità, economia e lavoro e per questo i giovani interessati spettano mutui agevolati. Con la Banca Nazionale delle Terre Agricole stiamo sperimentando continua una nuova forma di rivalutazione dei beni comuni con l'obiettivo chiaro di favorire lo sviluppo di nuove realtà agricole nei territori. Le risorse che derivano dalla vendita dei terreni saranno totalmente dedicate al sostegno dei giovani agricoltori. Trovare il terreno che fa il caso proprio è facile, visto che il sito ha le terre geolocalizzate che possono essere ricercate per regione. Sul sito dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, vigilato dal MIPAF, sono disponibili tutte le informazioni, dalla posizione alle caratteristiche naturali, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali. Gli utenti possono consultare la banca anche per grandezza dei terreni disponibili. Da oggi si può esprimere la manifestazione di interesse per uno o più lotti e da febbraio partirà la procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno manifestato interesse. I terreni acquistabili sono concentrati soprattutto nel centro-sud Italia, con la Sicilia a fare la parte del Leone, 1700 ettari, seguita da Toscana e Basilicata, 1300, Puglia, 1200, Sardegna, 660 ettari, Emilia Romagna e Lazio, quasi 500 ettari. Siamo alla pagina sportiva, sono fiero e onorato di far parte di questo grande progetto, di rappresentare questa bella città e i suoi colori. Sono fiero di essere napoletano, lo scrive sul suo profilo Twitter, Goulam, commentando il rinnovo del suo contratto con il Napoli fino al 2022. Attraverso una nota del suo legale, Marcello Donofrio, il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi, tiene a rimarcare la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati, avendo egli ricevuto ogni forma di elargizione retributiva in forma ufficiale attraverso il regolare bonifico bancario. La nota è stata diffusa in merito all'inchiesta del Tribunale di Milano sul calcio Foggia e un presunto pagamento in nero a De Zerbi. No, non è la cavese, il Milan non ci sta e replica a chi paragona il pareggio di Benevento che non aveva ancora conquistato un solo punto in Serie A a uno dei momenti più bassi della storia rossonera. La sconfitta è incassata nell'82 in Serie B contro una squadra neopromossa a San Siro. La squadra è molto contenta del lavoro che sta iniziando a fare con Rino Gattuso. Intanto il Benevento Calcio invita tutti coloro che hanno acquistato l'abbonamento per la stagione 2017-2018 e hanno sottoscritto la supporter card a ritirare entrambe le tessere ancora in giacenza. La consegna sarà effettuata a previa esibizione di un documento di riconoscimento presso i bottiglini dello stadio Vigorito di Prevento dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e 30 e dalle ore 15 alle ore 18. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Previsioni per mercoledì 6 dicembre. Pressione in aumento sull'Italia e dunque tempo stabile e asciutto su tutto il nostro paese, solamente con innocui addensamenti. Ecco il dettaglio elaborato come di consueto da ilmeteo.it. Al nord giornata in prevalenza soleggiata, qualche foschia mattutina sulle pianure orientali ma in rapido dissolvimento. Qualche nube in più sulla Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Spostiamoci ora al centro, anche qui tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno sui settori peninsulari, poco nuvoloso sulla Sardegna. Col passare delle ore aumento della copertura sulla Toscana ma senza altre conseguenze. raggiungiamo infine il sud, anche qui sarà una bellissima giornata di sole su tutte le nostre regioni. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. I venti saranno in prevalenza deboli e variabili su tutti i bacini. Concludiamo con le temperature che risulteranno essere senza particolari variazioni. Le minime infatti saranno comprese tra meno 4 e 11 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo fino a 12 gradi al nord, fino a 14 gradi al centro e punte di 15 gradi al sud.